As soon as I went into qualifying I knew the car was fucked Non dire la roma, chiamo la polizia Ripartiamo, allora Avrete sicuramente sentito il caso Max Verstappen dove il pilota Red Bull, tra volte campione del mondo è stato multato con una giornata di lavori socialmente utili della FIA dopo aver definito l'assetto della sua macchina come fucked Questo ha portato a un braccio di ferro la distanza tra la federazione e il pilota dove quest'ultimo ha deciso di presentarsi alle restanti conferenze stampa organizzate dalla FIA nel fine settimana rispondendo a monosillabi e invitando i giornalisti fuori nel paddock per organizzare una personale intervista con Blackjack e Squilo di Russo Ma cosa ha portato a questa reazione? È forse Max Verstappen che batte i piedi per terra perché vuole dire le parolacce? O è un gioco di potere della FIA mascherato sotto il velo del moralismo? Prima di tutto dobbiamo distinguere quelli che sono i due organi principali che governano la Formula 1 ovvero la FIA e la FOM La FIA è la federazione internazionale dell'automobile e gestisce tutti i principali campionati mondiali ed europei del motorsport dalle monoposto ai rally come dai kart ai track In questi campionati tutto ciò che riguarda il regolamento sportivo e finanziario ai cui team che si iscrivono devono rispondere è interamente governato dalla FIA Il presidente in carica dal 2021 ad oggi è Mohamed Ben Suleyem ovvero il nostro secondo protagonista del video di oggi e colui che ha messo un freno alle parolacce La FOM o Formula 1 Management invece è la principale società operativa del gruppo FOG o Formula 1 Group una holding a cui fanno capo tutte le società che controllano i diritti commerciali di immagine e promozione del campionato Il conosco di mass media statunitensi Liberty Media è l'attuale proprietario del Formula 1 Group dopo averlo acquistato nel 2016 hanno una cifra spaventosa di 4.4 miliardi Ma 4 miliardi di cosa? Di mele? Di pere? No, di dollari Quindi ricapitolando La FIA si occupa del lato sportivo e regolamentare della Formula 1 mentre la FOM o la FOG si occupano di quello che è il lato pubblicitario e commerciale oltre all'organizzazione e la promozione degli eventi Ma tornando alla storia La mattina di giovedì 19 settembre ovvero il giorno in cui comincia il weekend di gara del Gran Premio di Singapore Autosport.com pubblica un'intervista esclusiva con Mohamed Ben Suleyem Dove tra i vari argomenti trattati il presidente della FIA esprime il suo più grande disappunto riguardo un linguaggio eccessivamente scurrile da parte dei piloti durante i team radio Sottolineando più e più volte come un vecchio che urla le nuvole che loro non sono dei rapper, che i rapper usano molto la parola con la F e che loro sono loro e noi siamo noi Dice di comprendere in quanto lui stesso è ex pilota Come l'adrenalina del momento possa influire sulla condotta di una persona ma allo stesso tempo dovrebbero pensare ai bambini a casa Ma non c'è nessuno che pensa ai bambini Piccolissimo dettaglio i piloti sul loro volante non hanno il tasto Sky Sport con cui comunicare direttamente col pubblico a casa loro comunicano solo ed esclusivamente con i loro ingegneri di gara che poi questi audio vengono presi censurati perché non vengono trasmessi in diretta e trasmessi successivamente in televisione e opera della FOM Il giornalista loro interviene chiedendo se la FIA abbia il potere di intervenire su una cosa del genere non facendo parte del regolamento sportivo della competizione Al che sull'AM risponde Possiamo e lo stiamo già facendo Al che ti dico stai calmo Ma continua dicendo che sono stati loro in principio ad approvare la messa in onda dei team radio E mi pareva strano perché mi sembrava giusto di ricordare una cosa come 3-4 mila video tra YouTube, TikTok e RIS dove è stato ripostato quelli che sono gli sfoghi con diti di parolacce di Raikkonen, Sunoda o addirittura di Montoya che povera bestia non corre da 20 anni Ma sappiamo appunto che questo è business e a vederlo da fuori sembra che alla Formula 1 piaccia davvero molto questo business dato che è diventato uno dei format più apprezzati anche dai loro follower sui social Tuttavia queste dichiarazioni presagiscono un dietrofronto con una richiesta formale inoltrata dalla FIA nei confronti della FOM di limitare la messa in onda di qualsiasi materiale contenente linguaggio scurrila Poche ore dopo avviene la tradizionale conferenza stampa del giovedì dove i piloti a piccoli gruppi di 3-4 persone vengono invitati all'interno di un sottino insieme ai giornalisti e al modellatore ufficiale della Formula 1 Tom Clarkson il quale prima li scalda con qualche domanda in circostanza per poi lasciare spazio ai giornalisti accreditati uno di questi chiede a Max la causa della sua scarsa performance a Baku rispetto ai compagni di squadra Ceco Perez l'olandese risponde che avevano montato due setup diversi sulle macchine ma che dal momento in cui è entrato in qualifica ha sentito subito che l'assetto della sua era appunto FACT sul momento il pilota è stato leggermente invitato dal moderatore Tom Clarkson a moderare il linguaggio per il resto dell'intervista ma è finito tutto là questo fino a quando un altro giornalista ha chiesto a Max cosa pensasse dell'intervento di Ben Suleyem e Max non ha avuto remore al riguardo dicendo che questo non l'avrebbe fermato dall'imprecare io lo direi con un po' meno d'orgoglio no? perché è una cosa che fanno tutti se non in quella stanza a fuori ma che non lo considera come cattiva condotta crimine di cui poi è stato imputato e multato dagli steward e che Ben Suleyem aveva rimaneggiato la sua definizione durante il summer break in modo tale, dice lui, da evitare quello che è un abuso troppo forte nei confronti degli steward e che questo sarebbe direttamente correlato all'abuso nei social che vedono i piloti farlo e anche gli utenti si sentono permessi a farlo ho detto un po' troppe volte farlo nel documento ufficiale che incrimina Verstappen c'è anche un precedente ovvero quello di Las Vegas 2023 dove i team principal di Ferrari e Mercedes, Frederick Vasseur e Toto Wolff durante una conferenza stampa avrebbero usato anche loro la parola con la F e ci tengo a precisare che erano due separate occasioni non è che avevano imbastito una gara di lutti e bestemmia tuttavia al tempo erano stati avvisati che se un comportamento del genere fosse stato ripetuto sarebbero stati multati altro caso invece dove la condanna è avvenuta è al Gran Premio di Austria di quest'anno dove il pilota V-Carb Tsunoda è stato multato di 40.000 dollari per aver definito il garage della Sauber come dei ritardati e questo non fa ridere non fa ridere non fa ridere non fa ridere poi si è scusato e ha giocato la carta che non è la sua prima lingua e che non sapeva il vero significato della parola che oddio può essere vero non è l'inglese migliore del mondo però vabbè alla fine è andata così e si è scusato Toto però dopo essere stato preso in causa dal documento ufficiale di cui vi ho appena parlato si è messo in difesa di Max dicendo che le conferenze stampa e soprattutto quelle del giovedì non sono fatte per essere trasmesse live infatti si possono recuperare indifferita su Formula One TV o vengono trasmesse sempre indifferita su Sky Sport dando tutto il tempo del mondo alla federazione di censurare quelli che sono i filmati o le trascrizioni come poi è stato fatto e se le mie fonti, ovvero Reddit, non sono errate e potrebbero esserlo le conferenze stampa di questo tipo non vengono più trasmesse live grazie proprio alla FIA che ha concesso questo favore ai giornalisti in modo tale che possano scrivere i loro articoli e pubblicarli senza fretta quindi ora mi chiedo dove sta il problema perché se per i team radio devi intervenire la FOM non mandando in onda oppure censurando ancora di più quelli che sono i messaggi lasciati dai piloti i loro ingegneri di pista perché non si può fare lo stesso con le conferenze stampa visto che si parla sempre di materiale che non viene trasmesso in diretta ma viene rimaneggiato prima, rieditato e poi successivamente mandato in onda e soprattutto perché questa volta a pagare è un pilota che si trova la prima contravvenzione di questo tipo senza contare il fatto che, come sottolinea Verstappen, l'inglese non è la prima lingua di praticamente nessuno all'interno del paddock e che già fanno del loro meglio per esprimersi nel modo più corretto possibile ed essendo sempre microfonati sia all'interno che all'esterno della macchina è normale che possano essere intercettate uscite di questo tipo aggiungendo che questo negli altri sport non succede e che loro non sono dei bambini e che gli eventuali bambini all'ascolto prima o poi diranno comunque le parolacce che ben sull'AM o i loro genitori vogliano o meno ma chiudiamo con i fatti del giovedì venerdì è tranquillo e sabato è un altro giorno dove Max si qualifica al secondo posto vincendo un'altra sessione di conferenza stampa alla quale si presenta con Lando Norris, Lewis Hamilton e il mutismo selettivo comincia l'intervista con il moderatore Tom Clarkson che prima si complimenta con Lando per la polla ma poi passando a Max scoppia la bolla ovvero gli risponde con una massimo due parole dicendo di non voler approfondire le sue risposte perché ha paura di essere multato oltre a scusarsi con Clarkson specificando che questo suo atteggiamento non è un attacco personale a lui successivamente alla prima domanda i parte giornalisti non risponde e invita tutti a fargli domande solo una volta fuori dalla conferenza l'intervista quindi come potete immaginare procede a singhiozzo con tutti un po' imbarazzati che devono rivedere le proprie domande quando uno di questi chiede a Lando e a Lewis cosa ne pensano della multa afflitta al loro collega Lando prima scherza dicendo che sarebbe meritata per poi tornare serio e affermare di non essere per niente d'accordo e Lewis appunto lo segue a ruota affermando che questo è l'apice del motorsport e si commette errori e che dichiarazioni come queste non cambieranno il suo atteggiamento e spera neanche quello di Max Nonostante la presa di posizione di Verstappen un giornalista gli chiede cosa succede se questo suo atteggiamento provoca un'altra penalità al quale l'olandese risponde no comment e un altro subito dopo gli chiede per quanto tempo pensa di non rispondere nelle conferenze stampa della FIA al che Verstappen afferma che lui sta rispondendo solo non molto e che ha un piccolo problema alla voce L'intervista quindi si conclude qui nel pieno imbarazzo di tutti che aspettano soltanto di uscire per poter intervistare realmente Max Infatti appena ha messo piede fuori dalla stanza dei media tutti i giornalisti li hanno cerchiato già sulla rampa di scale cominciando a fargli domande raffica e che lui, non c'è niente a dire ha risposto per intero e cortesemente affermando tra l'altro che il colloquio con gli steward c'è stato e che hanno compreso esattamente la situazione ma che non ci possono fare niente perché il regolamento è il regolamento il giorno seguente Max in gara parte secondo e arriva secondo facendo tutto il possibile e assicurandosi di poter arrivare secondo in tutte le restanti sprint e gare vincendo comunque il mondiale ma parliamo del post gara Norris, Piastri e Verstappen si presentano al prepodio dove come al solito vengono filmati mentre reagiscono agli highlights della gara tra cui un bloccaggio di Norris dove praticamente ha finito di franare in Malesia e che a rivederlo ha commentato I actually shit myself mi sono cagato addosso con Piastri che gli chiede di commentare senza usare parolacce ma anche se la dinamica è la stessa che ha coinvolto Perstappen su questo non c'è stata alcuna investigazione ed è avvenuto pure in diretta ma si sa le vie del sull'IM sono infinite durante la conferenza post gara Max è risultato sempre di poche parole ma questa volta creando dei periodi completi con soggetto, oggetto e verbo tuttavia le risposte sono continuate ad essere comicamente corte con i tre piloti del podio che se la ridevano in faccia alla figlia come degli scolari all'ultimo banco alla fine dell'intervista un giornalista chiede a Max se continua a preferire che le domande gli vengano poste fuori dalla sala stampa Max risponde che è stata una giornata molto lunga ma nonostante ciò si è fermato comunque e dire che ha parlato è riduttivo perché possiamo dire che ha cantato questa volta la seconda conferenza stampa si è tenuta nell'hospitality della Red Bull dove a detta dei giornalisti è risultata come una ventata d'aria fresca stare fuori quelle che sono le regole imposte dalla FIA e che hanno visto anche come per Max fosse catartico se vogliamo parlare in modo così libero ovviamente stando sempre quello che è il media training di Red Bull perché il diavolo ha minimo due teste però nonostante ciò sempre meglio del comportamento da spione della FIA e notando questo rapporto precario con la federazione che anche in questi anni di dominio è stata più volte indigesta al tre volte campione del mondo gli è stato chiesto se situazioni come queste potessero influire su quella che è la sua permanenza all'interno dello sport e lui molto candidamente ha risposto di sì non è infatti la prima volta che il pilota minaccia di abbandonare la Formula 1 nel 2028 anno di fine contratto con la Red Bull se non prima dato il suo desiderio di correre senza essere importunato da regole stringenti che lo seguono addirittura anche fuori dalla macchina senza tener conto che ha più volte detto di non sentirsi libero a esprimere qualsiasi sua opinione e che ciò gli toglierebbe il piacere di competere chiude con un avvertimento forse un bluff dove dice di non sapere quanto la FIA possa prendere sul serio le sue parole ma soprattutto di quanto possa essere preparati a perdere così prematuramente un campione del mondo ma quando per lui tutto questo sarà troppo la decisione non tarderà ad arrivare perché come dice lui la Formula 1 andrà avanti comunque senza di lui ma lui andrà avanti senza la Formula 1 senza troppi problemi ma quale potere hanno le parole di Max e soprattutto come si posiziona ogni parte in questa faccenda nel corso del weekend Verstappen si è dimostrato molto maturo svolgendo a pieno sia i suoi compiti di pilota che di personalità pubblica togliendo tempo a se stesso e svolgendo delle vere sessioni di interviste rispettando il lavoro dei giornalisti d'altro canto la FIA ne è uscita impotente facendosi ridicolizzare per tutto il weekend da Max e compagne e ricordando a se stessa come il pubblico sia lì per i team per i piloti e non per la federazione e ben sull'IM è passato dall'essere un uomo d'affari che ragionevolmente chiede un po' più di professionalità nell'ambiente di lavoro al supplente che non riesce a farsi rispettare dagli alunni soprattutto quando lui è stato il primo a non rispettare loro il presidente non è infatti nuovo la creazione di leggi o munizioni ed personam prima di Verstappen è stato Hamilton nel 2022 quando su Rayem all'inizio della stagione aveva imposto un veto ai piloti di non indossare piercing o gioielli all'interno della macchina per questioni di sicurezza regola introdotta nel 2005 ma mai sostanzialmente applicata a parte adesso quando Lewis è l'unico a farlo ma perché applicare una regola 17 anni dopo e che va ad influire solo un singolo pilota sarà forse perché sia lui sia che la Mercedes si sono mostrati molto in disaccordo con la FIA per come è finito il campionato 2021 tanto da non presentarsi al gala mandatorio di fine anno o Vettel quando negli ultimi anni della sua carriera si è mosso per varie cause sia sociali che politica con Ben Surayem che ha più volte criticato e scoraggiato i piloti da fare ciò cercando addirittura di demascolinizzare Sebastian paragonando lui e la sua bicicletta arcobaleno ai veri campioni del passato come Laude Prost a cui interessava solo correre però dice di non imporre i suoi ideali eh no no quando mai più recentemente è stato accusato da un whistleblower di aver manipolato il risultato del Gran Premio di Rebbe Saudita del 2023 quando Fernando Alonso ha momentaneamente perso il terzo posto a causa di una penalità Suleyem avrebbe comunicato a fine gara con lo sceico aspettate un attimo Abdullah bin Hamas bis Isahal Jalifa chiedo scusa per la pronuncia totalmente assenta che ricopre la posizione di vicepresidente della delegazione FIA in Medio Oriente e Nord Africa e che caso vuole fosse uno steward il giorno del Gran Premio ordinandogli di rimuovere la penalità ad Alonso eh ma Simon questa non è persecuzione anzi avrebbe addirittura aiutato il pilota ma ne siamo sicuri voleva forse Alonso sul podio o un Aston Martin contento sponsor all'AMCO che per chi non lo sapesse è la principale società di idrocarburi in Arabia Saudita nel Gran Premio di Arabia Saudita ma tutte queste sono ancora accuse sotto investigazione ed io essendo nato garantista giudico ben sull'IM innocente fino a prova contraria da questa situazione l'altro grande sconfitto è Liberty Media che si è trovata in mezzo a questi due fuochi trattandolo come se fosse uno scoop per andare avanti con la programmazione ma dimostrando come non ci possa essere un altro weekend di questo tipo perché se i piloti decidono di unirsi e fare il muro con la federazione non si presenteranno più a nessuna attività di promozione pubblicità o interazione con i fan e questo andrebbe chiaramente a svalutare quello che è il prodotto della Formula 1 questo sia per i telespettatori che non sarebbero molto interessati a seguire il gioco del silenzio nei giorni che precedono la gara ma anche per le persone che effettivamente vanno al Gran Premio e che non avrebbero assicurate la presenza dei piloti in nessuna delle attività fanservice organizzate dalla FIA oppure se sono presenti a sabotarle ciò risulterebbe per Liberty Media un investimento in perdita soprattutto da quando hanno appena comprato pure la MotoGP e diciamo che sperano che entro le prossime tre settimane che ci dividano dal Gran Premio di Austin che queste due parti riescano a trovare una tregua ma in un ipotetico braccio di ferro chi ha più potere? verrebbe naturale dire la FIA è ben sulla IEM ma come Max Verstappen non è obbligato a restare non lo è neanche Liberty Media perché alla fine sono loro come società che gestiscono l'aspetto economico del campionato e che alla fine di ogni anno battono cassa sia per loro che per i team assegnandogli quelli che sono i premi monetari è poi da anni che si vocifera di una scissione della creazione di un campionato speculare alla Formula 1 ma non sotto la FIA solo che ciò non è mai andato oltre la voce di corridoio l'ipotesi più probabile è che se ben sulla IEM non viene deposto dalla sua posizione o le acque non si calmano Liberty Media possa vendere al miglior offerente e far tornare la F1 alla rappresentazione mediatica dell'era dell'ultima era Bernie Ecceston cioè molto povera mentre l'altra possibilità è che Max rescinda il proprio contratto da campiona e questo sarebbe un colpo molto basso per la categoria perché sì la Formula 1 continua anche senza Verstappen però se ti vuoi definire l'apice del motosport deve avere sia le macchine migliori che i piloti migliori e se un domani Max Verstappen che sono la stessa persona Leclerc e Norris decidono di andare nel WEC diciamo che questo è una cosa che di sicuro va ad intaccare il prestigio del campionato ed è per lo stesso motivo che la MotoGP cerca di ingaggiare Toprack della Superbike o che i fan del wrestling vorrebbero vedere MGF in WWE o che i fan degli scacchi vorrebbero rivedere Carson all'interno del torneo dei candidati per giorcarsi in titolo mondiale perché vi sfido a chiedere a qualunque appassionato di scacchi se l'attuale campione Ding Liren avrebbe vinto anche contro Magnus e la risposta sarebbe no quindi per il bene dello sport è necessario che la FIA e la FOM ritrovino un equilibrio magari con la stesura del prossimo patto della Concordia nel 2025 ma quelli sono accordi interni altrimenti rimetterci sarà sempre la Formula 1 e al momento tra i tre quello con il coltello dalla parte del manico è Max essendo già un multicampione del mondo da nove anni nello sport pieno di soldi senza niente da dimostrare a nessuno è pronto ad andarsene al miglior offerente svalutando quello che è il prestigio della Formula 1 e su questa nota eccessivamente drammatica il video finisce vi ringrazio di aver seguito fino a qui immagino che il video sia venuto eccessivamente lungo un po' come il bloccaggio di Norris a Singapore però come in quel caso è andato tutto bene e niente ci rivediamo al prossimo video ciao 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 ciao